Sì, fu una partita soffritta, il campo è stato molto difficile, molto male, però l'equipo ha tenuto l'attitudine, lo faccio molto, e garriamo su una coppa molto importante, per ganare la confianza, è stato molto felice, sì, abbiamo un'attitudine differente, poi ho partito con l'Inter, è stato molto male, l'equipo è stato male, però ho passato l'importante, per ganare e raggiungere la confianza, è un'attitudine molto importante, siamo molto felici, spero che sia una squadra molto confiante per due partiti, ma io penso che sì, il Milan e l'Inter sono molto forti, però falta molto, e io credo che possiamo ancora raggiungere, ma sappiamo che la corrida è molto difficile, ma io penso che la possibilità è molto buona, io penso che sì.